Un'assemblea in strada di fronte all'ufficio scolastico provinciale di Via Coviello è stata indetta stamane da Unicobas Cib Sicilia per spiegare le ragioni di netta opposizione del sindacato di base ai tagli previsti dal Governo nazionale in materia di risorse umane e finanziarie per il comparto scuola. Nel contempo si è anche parlato di lavoratori Catania Multiservizi e del liceo musicale Bellini che in una logica di privatizzazione dei servizi hanno visto il loro salario decurtato anche del 70%. Il tutto in vista di uno sciopero nazionale che si terrà a Roma davanti alla sede del MIUR il prossimo 14 novembre. Mentre qua qualcuno brinda e dice le 24 ore, c'è lo spostare alla cattedra della scuola da 18 a 24 ore, non c'è più, non sanno che profumo ribadisce come mettiamo noi nel nostro testo che sta approntando un provvedimento parallelo. Probabilmente la scuola italiana verrà unica in Europa, ridotta da 5 a 4 anni, con la perdita di 30.000 cattedra. Allora noi cosa diciamo? Chiediamo di fare due azioni. La prima azione è quella della manifestazione nazionale a Roma sotto il ministero dove presenteremo la nostra piattaforma con la richiesta di dimissioni dei ministri profumo e passera, ma soprattutto chiederemo ai parlamentari di aprire un'indagine conoscitiva. Noi vogliamo sapere se le scuole catanese e siciliane sono a norma sul piano della sicurezza, se i diritti dei diversamenti abili, che la legge dello Stato parla di 24 ore, esistono o non esistono, o seppure la scuola è ormai incestata, del leggo spiego interro, che non ci sono più risorse. Siamo l'unico paese in Europa che se facciamo una graduatoria è penultimo, ma considerante in Europa anche la Turchia. Non si può uscire dalla crisi se non si investe sulle risorse. Lo sciopero assume inoltre come obiettivo irrinunciabile anche il netto rifiuto del DDL Aprea, che introdurrebbe la chiamata diretta e discrezionale del personale da parte del dirigente scolastico, l'ingresso del privato come committenza nei consigli di istituto, la valutazione discrezionale del personale da parte del dirigente medesimo e l'annullamento di fatto degli organi collegiali. Inoltre l'unicobas Cib sottolinea che sulla medesima questione ci sarà uno sciopero il 24 novembre, indetto dai confederali Snalz e Gilda con l'adesione dei copas insieme a CGL Cisle Will. Sigle sindacali da sempre inclini ad avallare le politiche governative, dice che presumibilmente si preparano ad accettare compromessi a ribasso e a svendere la categoria. In quanto, spiega lo stesso Tomasello, il giorno prima, il 23 novembre, i giochi saranno fatti, quindi a 24 ore di distanza quello sciopero risulterà vano. E proprio dell'appuntamento del 24 novembre si è discusso stamane nella sede del liceo Galilei, dove gli aderenti allo sciopero hanno parlato anche di legge di stabilità e progressione di carriera.